Questa è una storiella molto cinica, ma è molto sentita nei telegiornali. 3, 2, 1, in onda. Gentile pubblico, l'ospite di oggi dovrebbe essere appena arrivato. Mi è parso, infatti, di sentire il rombo di una Porsche nuova di pacca. Signore e signori, suor temeraria ruvidi. Eh, un po' di applausi, non li sentite, però ci sono. Con suor temeraria affronteremo oggi un argomento piuttosto delicato. Parleremo, infatti, delle case di riposo per anziani. Lei è la direttrice del Paradiso del Decrepito, dico bene? Dice bene, caro. Conduco l'ospizio da vent'anni e ho maturato una certa esperienza con i vecchi bavosi che ospitiamo per cifre esose nella struttura fattiscente. E come definirebbe la condizione dei residenti? Beh, senz'altro adeguata. Nessuna comodità. Servizi essenziali quasi mai garantiti. Chi si lamenta viene ovviamente frustato nel cortile dell'edificio. Hmm, capisco. Un lavoro che deve dare tante soddisfazioni. Oh, sì, non mi posso lamentare. Ogni tanto mi concedo anche qualche piccola operazione di eutanasia nel confronto dei clienti indigenti o indietro con le rette. Sa, ognuno coltiva i suoi piccoli hobby. Ma, mi dica, com'è la giornata tipo dei vostri utenti? Beh, ecco. Il raduno e la conta dei vecchiacci vengono fatti ogni mattina alle 5. Se ne occupa il servizio d'ordine composto da sei suorine in attesa di prendere i voti. Premurose e comprensive come ufficiali dell'ASS. Naturalmente, chi ritarda salta a pranzo. Quindi vengono tutti condotti nei campi antistanti all'edificio e nelle miniere di carbone di proprietà vaticana, dove le vecchie carcasse si sentono finalmente utili e non allontanate dalla società. Ma è molto umano da parte vostra. Lo so, lo so. Siamo orgogliosi di quello che facciamo. E mi dica, quali comodi servizi offrite alla vostra struttura? Come le dicevo, per non viziare gli ossuti, seguiamo un criterio di completo ascetismo, nei loro confronti, ovviamente. Non c'è televisione, nei giochi da tavolo o attività di gruppo. Tutti gli istantii vengono chiusi nelle loro cellette e quadri familiari, mantenendo una temperatura adatta per la perfetta conservazione della loro epidermine in carta percorrita. Sarebbe a dire, non c'è riscaldamento. E la ribagione? Oh, mai ricevuto la mentire? Gettiamo la sbobba attraverso tubi intercomunicanti con le cellette, così da non compromettere la fragranza. Il tutto si sparge sul pavimento e i fetidi sono così spronati a mantenere il senso di competizione per poter recare via via qualche rimasuglio. E in questo modo risolviamo anche il problema degli escrementi che inizialmente ci avevano creato qualche grattacapo. Ah, e per quanto riguarda le tariffe? Siete convenzionati con la mutua? Ma state scherzando? Ovviamente no. Le pensioni dei relitti vengono direttamente testate sul mio conto, oltre a una piccola retta versata dalle famiglie felici di liberarsi in eterno dei loro cari. Ben inteso, coloro che si godono, si fa per dire, di pensioni minime, vengono espulsi dopo il primo mese e gettati nel fossato dei cocodrilli. Un servizio completo, reso alla società. Certo, certo. Peti, mi fanno cenno della regia che dobbiamo concludere l'intervista per fare spazio al Tg. Grazie della sua partecipazione, suora temeraria. Ma dove è seduta? Oh, non è niente. È solo il mio bavoso portantino. Ha già un piede nella fossa. Vieni, caro. Raccogli i tuoi rotolini di pelle moscia e il portabagagli ti aspetta. Aller voir! Aller voir! Grazie a tutti. Grazie a tutti.